Buonasera e benvenuti ai cinque minuti di Fatte D'Ancuri, come diciamo sottovoce perché qui ci conoscono troppo e non vorrei che si spargesse la voce. Sono qui, sono da sola, non c'è nessuno con me e sto aspettando il mio caro amico nel frattempo per bere. Nel frattempo che lo aspetto per bere facciamoci un bevito di Fatte D'Ancuri perché è meglio. Diciamo che il frattempo è migliorato, è migliorato parecchio, usate i capelli perché sono veramente impeccanti. Siamo molto solidari con gli amici di Terracena che furrà fuori, non ha più i prossimi momenti, non credo si sentirebbe parecchio. Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Un momento, ho sentito la voce, l'avete sentita anche voi. Mi spero. Stasera siamo al B-side a imparare come si brilla. Salute! Controllatelo, guardate se mi guarda negli occhi. Guarda come è che ho fatto. Si guarda da solo negli occhi mentre prenda! B-side, per il bar blogger, bar lover, sono un po' di lernica, B-side. B-side, culinaria, vai fatte da un po' di, mi raccomando, eh! Casi medi! B-side, culinaria, vai fatte da un po' di, mi raccomando, è una bella location, eh! puoi vendire la boviglia si vedo 91 comuni sono in Ciociaria 91 comuni della Ciociaria si vedo tutti in boviglia speribile sapevi? vabbè ma le cose se le sai salve se non le sai ciao file grazie a tutti